Vorrei difendere Renzi perché ho visto che Angelino Alfano ha commentato Renzi è uno dei nostri e alla fine voterà per noi, ha detto no, io non lo credo affatto. Renzi è uno dei nostri, certo con le sue opinioni, e alla fine voterà per noi. Quindi ho un'opinione del tutto diversa rispetto a quella di Angelino Alfano.